guardate cosa succede Keo si sta svegliando ha fatto un brutto sogno questa è sua madre Marlene lo scopo del gioco è ritrovare il padre e la madre di Keo Kobe e Kaia dobbiamo ritrovarli e alla svelta vi ho fatto vedere la prima introduzione nel video precedente poi vi ho fatto vedere la seconda introduzione in questo video vi saluto iscrivetevi al canale mettete un mi piace la seconda la seconda la seconda la seconda la seconda Grazie.